Nel video di oggi vi mostro cosa indossato la scorsa settimana Ciao a tutte e benvenuta al nuovo video, sono Cristina, sono la blogger di No Time for Style e sono l'autrice di una serie di corsi manuali tutti dedicati all'immagine di noi donne over 40 Oggi sono qui per farvi un video abbastanza breve, un video che vedo che quando lo faccio piace sempre molto perché è sempre carino e divertente, trovo curiosare un po' e anche scambiarsi delle idee su quello che indossiamo nel quotidiano Vi farò semplicemente vedere cosa indossato questa settimana anche in base a quelle che sono state le condizioni climatiche di questi ultimi giorni e anche le mie occasioni d'uso Preciso anche che in questo periodo qui non ha sempre fatto caldissimo Ci sono stati dei giorni di maltempo, altri decisamente freschi e con temperature anche bassine e altri invece più caldi, quasi affosi e ancora estivi per cui anche i miei outfit variano un po' a seconda delle condizioni ma anche e soprattutto delle occasioni d'uso Infatti come vi racconto sempre, secondo me quando dobbiamo decidere soprattutto in quei momenti di sconforto in cui ci affacciamo sul nostro armadio, sul nostro guardaroba e pensiamo di non avere niente da mettere i punti di partenza dovrebbero essere sempre quelli di guardare fuori dalla finestra vedere che tempo fa, quali sono le condizioni del meteo e poi soprattutto anche di quelle che sono le nostre condizioni d'uso effettiva Infatti uno degli errori più gravi che tante di noi commettono è quello di creare degli outfit un pochino di fantasia che magari funzionano sulla carta ma poi all'atto pratico in base a quelle che sono le reali occasioni d'uso tendono appunto a non funzionare perché non sono magari scomode o inadatte o non in grado di reggere magari le condizioni meteorologiche di quella determinata giornata quindi di seguito vi faccio vedere semplicemente giorno per giorno quello che ho indossato e come noterete a volte addirittura ho riciclato magari il look del giorno anche per la sera quando mi è capitato di uscire semplicemente cambiando un pochino gli accessori infatti ci sono degli outfit che magari sono abbastanza semplici e che semplicemente cambiando magari la borsa passando dalla maxi shopper che usiamo per il giorno a una tracollina più piccola e mini per la sera oppure aggiungendo qualche accessorio un pochino più brillante magari anche un filo di trucco siamo perfettamente adatte per uscire andare in un bel ristorantino a prenderci l'aperitivo con le amiche e tutto questo nel giro di 5 minuti franzato di giocare Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.